Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSCoverwatch Il mio nome è come sempre con il tuo nome e questo oggi siamo tutti qui riuniti Per guardare un'altra prova e chi appare possibilmente un altro cheater Ma prima ragazzi come al solito volevo farvi sapere che oggi andrò in live ma non sul mio canale Quindi non sarà uno dei live classici Vado in live con la grand final dell'NVIDIA GeForce Cup Quindi ci saranno dalle 4 e mezza alle 7 e mezza si spera ci sarà una best of three Dove vedremo sfidarsi uno tra i Red e i Kinguin anche se i Red sono in vantaggio in questo momento Quindi io suppongo siano i Red Contro i Space Soldiers e sarà la finale per i 30.000 dollari di Prize Pool Quindi se volete venire a vederla sarà un gran match molto divertente Subito dopo alle 8 sarò in live con i ragazzi di Knife Round Perché? Perché ci sono i VCA Ieri non sono riuscito a castarli, oggi faccio il turno serale tra virgolette Con tre best of one tra team italiani Quindi vi aspetto in tantissimi durante questi streaming Mi toccherà castare un cifro e niente Ci vediamo lì Sono già stanco solo a pensarci Intanto andiamo a vedere il citer di oggi Ok ragazzi ci siamo Siamo su das 2 Il nostro sospettato è T Siamo al primo round Del primo half Quindi abbiamo avuto un po' di warm up Dove il sospettato non ha fatto nulla È stato fermo E quindi l'ho saltato A pie pari Intanto Sospettato fuori da lunga Con la Glock Attende Pusha il player in lunga che sa Che c'era Ma non sa del secondo E muore male Ok I T perdono il primo round CT con Due scout Un po' over Come buy Due scout Un MP7 Un M4-1S E un FAMAS Mentre I T cercano di fare qualcosa Al pistol armor Giustamente Vanno di force Sono rimasti già 3 contro 5 Due Teknine Una digola Digo lì nelle mani del sospettato Vediamo cosa ci deve fare sospettato È in buio basso Decide Di rimanere lì un attimo Per vedere se qualcuno Magari lo picca da show Il zigzag Sembrerebbe Intenzionato a farlo Si avvicina a zigzag Intanto Cuff esce E riesce ad uccidere Cut Arrivano a nade Da zigzag Uh Sospettato Missa totalmente Il colpo Intanto Un push Non riesce a trovare La kill Su Rose Ce la fa Finalmente adesso Guarda su verso Violet Mi sembra che si Stesse già Piazzando Onestamente Per prendere Lo shot Non credo che L'abbia sentito Violet Perché mi sembra che Violet abbia Camminato Tranquillamente Il pic mi sembrava Un po' strano Da quell'angolazione Perché mi sembra che Si sia proprio Appostato pronto Per riuscire a prendere Violet Con quello scout Intanto Violet sta Pushando Sospettato Lo hit Ma non fa L'HS E Violet Torna indietro Non abbiamo sentito I passi di Violet Che tornava indietro Quindi Sospettato che Aspetta qua È più o meno giusto Nope Wallax Dai Su Ok va bene tutto Ma è la seconda volta Che sei esattamente Dove è la gente È la seconda volta Che ti prepari Già per gli shot Brutta merda È la terza volta Che ti prepari Già per gli shot E si E sei fortissimo Spara un colpo a caso Lì giusto Per cercare Di coprire Le sue tracce Salta anche senza sapere Fare i bagniop Perché non li sa fare Cioè sta solo saltando Ragazzi Lui sta facendo Sospettato Perché sta solo saltando Intanto adesso Non sa più Dove sono gli avversari Spicca E viene ucciso male Da zig zag 3 a 0 Comunque Non sai fare i bagniop È inutile Smettila Non sai bagnioppare Non sai bagnioppare Non sai Fine Basta Smettila Adesso ti danno il griefing Perché Stai saltellando in sito Eh Eh Ti danno il griefing Adesso Recupera la bomba Sospettato Mentre salta in giro A caso Senza sapere E questa è la cosa triste Cioè ci dà fastidio Il fatto che non sappia bagnioppare Tanto Violet Con Con una OSP Tira giù un retto Il cat invece Su ostrich Viene hittato Dalla WP di Violet In questo momento Sospettato Ma alfa Riesce a fare la kill Zig zag Si frappone Fra alfa Ed un'altra kill E quindi Non so Sospettato che sta Griffando Malamente In spawn Ma malamente Proprio Malamente Proprio Comunque Il sospettato Ne sapeva troppe Secondo me Adesso sta Griffando Perché Ha il wallack Ma Non sa comunque Giocare Si nota Dai bagni Ops Comunque Perché Butta via le cose Butta tutto Decide di andare Di cose Si fa uccidere Ok Ora Di nuovo Lo fai di nuovo Stai fermo di nuovo Brutta merda Eh 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 Si che sta fermo Di nuovo Premo la demo No Si sta muovendo Vediamo un po' Se va da qualche parte Decide di Ok Decide di andare verso B Finalmente Prende il primo Non il secondo E poi muore male E AFK You spin my head Right round Right round Signori Quindi si Abbiamo palesemente Un griefing Purtroppo Ho voluto vedere Di più Del sospettato Che giocava Perché Ho dei sospetti Di wallack Pesantissimi E non ci sono stati Quindi Vi Evito di perdervi Tutta sta cosa Vorticante E Orribile Gli diamo il griefing Mi servivano Delle prove in più Per il wallack Onestamente Mi servivano delle prove In più per il wallack Quindi Gli diamo il griefing E il wallack Siccome Per me Un po' ce l'aveva Questo è il fatto Però Un po' Non è sicurezza Al 100% Quindi non gliela posso dare Però Griefing Palese 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 Quindi Ragazzi Io aspetto La prossima prova Perché devo aspettarla Perché ci vuole una vita Noi ci vediamo Tra pochissimo È già arrivata Incredibile Ok ragazzi Ci siamo Siamo di nuovo Su S2 Di nuovo Spettato T Di nuovo il primo round Del primo half E di nuovo Sospettato E fermo Ma che cazzo Cosa succede Cosa succede In questo mondo Eh Cosa succede Fermo Fk Ok Si è ripreso Finalmente Il sospettato Va bene Così Avanza Verso B Spara A casaccio Riesce a prendere Finalmente in testa Torus Ma proprio Sparando a casaccissimo Madonna mia La velocità Di shot Della tech Fa due kill Buon per lui Bomb Abrazzata Piazzata in B 4v2 A vp di pelican Verrà ingaggiata L'iguana Che però ci muore male Ok 3v2 Adesso dobbiamo stare tranquilli Il dalma Da dalmation Sta arrivando Dalla zona Db Adesso è un 2v1 E il sospettato Esce e gli spara In testa 100% di hs Per lui In questo Primo half Con 3 kill E una morte Vediamo cosa fa Con la vp Già mira In una posizione Che non mi piace E si Sapevi Chi c'è al secondo E come fai A sapere Chi c'è By the way La L'ha Hittato fino a 2 2 Ok Ha lasciato cat A 2 Già Già quella posizione Di shot Della vp Non me la conta giusta Nel senso che Sera Sparava al primo Se voleva Darsi ai riflessi Sparava al primo Ok Invece è andato Diretto per il secondo Senza neanche Neanche muoversi Quando è passato il primo Quindi è strano Quindi è strano forte Intanto Duck esce lunga Aspettato Lo mira Ma è lento Come la merda E non riesce a prenderlo Torna Alla tech Nine Rector Riesce a killare Duck Che ha 2 hp E si Sei fortissimo Sei Sei proprio forte A mirare la gente Attraverso i muri Veramente Questo track A male ragazzi Questo track A male Non si Lo vede passare Ok E riesce a prendere Anche dal mission Quindi 2 a 1 E lui Decide di esultare Perché evidentemente Non gli succede spesso Mira di nuovo Tutto su a destra E Ma mi sta lo shot Però a sto giro Poteva essere timing Il primo shot Perché Siccome non spara mai al primo Può essere Che stesse aspettando Almeno siccome l'ha fatto Anche a sto giro Può essere Che lui aspetti Che passi il primo Per avere un Più o meno Un incipit Su quando Arriverà il secondo E riuscire quindi A prepararsi A sparare Si può fare Non è detto Che non si possa fare E' molto più random Secondo me Come stile Per piccare mid Quindi potrebbe Non essere Wallack Vediamo un po' Uccide Duck A posto Torus Si fa la kill Sanno che è in short Mira verso short Un po' troppo alto Per i miei gusti Onestamente E' infatti Troppo alto Però riesce a flickare Su torus Mentre esce Ok Sospettato non è fortissimo Chiariamoci subito Vedete Itadak attraverso le porte Con un flick Quindi va bene Che vi ricordo Che se hai Wallack Tendi a sparare Quando il tizio esce E quindi non è che flick Stai aspettando che lui Entri nei tuoi crosshair Che funziona così Wallack Uh trova anche la kill Su Dalmatian In In site di A Decidono di prendere Site di A Anche perché è praticamente Totalmente libero Hanno due ct in arrivo Da short Uno che sta andando Verso B Non si sa bene Per quale motivo Arriva il plant E la bomba E due ct in short Sono già molto avanzati Vengono notati Subito Dalla vp Non li ha neanche notati Credo che abbia Semplicemente sparato a caso Tanto spettato si porta Per coprire la zona di lunga Snake riesce a fare la kill Su cat Torus non si è ancora Fatto vedere Da lunga ne sta arrivando Uno però Quindi probabilmente Torus starà attendendo L'arrivo del compagno Ma Rattel lo va a cercare Lo mette giù E ora Pelican Esce in lunga Uccide Snake Sospettato FK Decide di mirare In giro Lo trova Non riesce a fare la kill In HS Però Trova subito Pelican Dietro i barili Quindi 4 a 1 E ripeto Questa non è Non è una partita Tra grandi cime Di CS Sì Wow Robin Wow Appena sparato Nella smoke Attraverso la porta In testa ad uno E non era il sospettato What? Voglio vedere Robin Io Fatemi vedere L'overwatch di Robin Cazzo What the flipping fuck Comunque Aspettato che Esce in A Però sto giro Proprio tipo Valzer Cioè C'è uscito Sciallissimo Non trova nessuno Ovviamente In site Continua a cercare il site Guarda la lunga E trova Dalmation Con un flick In Lunga Il push Su A Era strano Nel senso Ok Ne hanno uccisi un po' Quindi Eh dai però Eh dai però No dai Una va bene Ma due Due What? Adesso si sta fermando Probabilmente Per chiamare la mamma Tipo Mamma Porta la telecamera Non sai cosa ho fatto Roba del genere Quindi What Da F Che? Scusa? Non lo so Va bene Torna il wallack Come va Però poi Corre davanti a pelican Il fatto è che Per come ha corso Cioè Mi sembra che avesse addirittura La mano levata dal mouse E qua si è fermata Dilly Vedi se avessi wallack Non sarei corso Davanti al tuo amico Così Per farmi uccidere Tanto passi di pelican Viene trovato pelican Che pusha in lunga Yandy è entrato Direttamente nei crosshair In questo caso Duck Trova Cat In short Fatto è che Il fatto è che Il sospettato Non è bravo Cioè si vede proprio Da Da quanto è pesante Il movimento del mouse Nel senso Sembra che stia facendo Fatica a mirare Seriamente fatica Quindi boh Vi giuro Non Non riesco a comprendere Allora È stata FK All'round però È tornato È iniziato a giocare E quant'altro Può capitare Di essere FK Per il primo round Magari perché dici Devo andare al cesso Arrivo 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 E poi non ce la fai Capita Ogni tanto Adrex Non ho visto Aim assistance Non l'ho visto Anche se poteva essere Una specie di smooth aim Ma Con tutti quei shot di AWP Non lo sapremo mai Perché un flick di AWP È abbastanza Normale da fare Se giochi di AWP Costantemente E i wallack Io non sono Oltre ragionevole Dubbio Ho dei dubbi Quello sì Cioè ho dei dubbi Sul wallack Ho dei dubbi Enormi dubbi Mastodontici dubbi Ma Non posso Non posso In buon cuore Darglielo Perché Come diciamo sempre È meglio un città libero Che un innocente Vaccato Anche se questo Mi lascia un po' L'amaro in bocca Mi lascia seriamente L'amaro in bocca Quindi ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Il mio nome è come sempre Quittono E Ciao a tutti We wanna wait We wanna wait Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re del let's play We wanna wait Come and see you next time to come to the city Abbiamo Alla Gioco aiutar